A tempo di Svarts, titoliamo per la nostra puntata di questa sera di Viceversa, non è un errore mio nel programmare la puntata ma mi riferisco allo Svarts Studio, adesso ce ne parla il nostro ospite che è Loris Tomasella, buonasera Loris, buonasera a tutti, allora intanto il titolo è corretto, ci sta, non mi tiri le orecchie, no non tiro le orecchie va benissimo, che cosa è lo Svarts Studio Loris, è un qualcosa che c'è a Sacile, faccio una piccola premessa, mi fa piacere averti come ospite, uno perché so che sei un grande tifoso dell'Udinese e so che abbiamo bisogno in questo periodo di sostegno, due perché le lezioni adesso, vabbè, calcoliamo un po' la parte estrema del frio occidentale però non gli diamo tantissimo spazio e quindi saniamo questa piccola lacuna stasera. Allora al di là dell'acqua, come si dice di là da laghe, grazie per averci invitato. È un piacere, figurati, cos'è questo Svarts Studio a Sacile? Che è interessante, è uscito gazzettino, messaggero, insomma tanti se ne sono occupati, adesso anche noi mettiamo il nostro occhio. Beh, appunto, intanto grazie per averci invitato. Svarts Studio... Vedi che già la pronuncia era questa, no? Sì, esatto. No, Svarts Studio fondamentalmente, fisicamente è un ufficio, è un ufficio sfitto che poi nel tempo è stato ovviamente sistemato e portato ad essere sia sala per concerti, sia sala per cineforum, sia sala per incontri, da quattro persone. Ok, ok. Io ho appunto Loristo Masella, Sara Pavan, Giuseppe Carletti e Marta Lorenzon, quattro sacilesi. Quattro sacilesi che vengono tutti da esperienze diverse, io all'interno di questo spazio mi occupo fondamentalmente di musica. Sara è un po' la factotum, è un'illustratrice. Quando c'è un problema, dici, chi chiamiamo? Tutta, sì, sì, lei è un po' il nostro boss. Marta, che è un'illustratrice, pittrice, e Giuseppe Carletti, che si occupa di riqualificazione urbana. Ognuno ha fondamentalmente... E' un architetto, quindi... No. Sì, diciamo che si occupa di tantissimi... è anche lui un po' un factotum per quanto riguarda comunque tutto ciò che tratta la riqualificazione urbana. Ok, ok, perfetto. Ci siamo intesi. Raccontami un po' la genesi di questo spazio, cioè il presupposto da cui siete partiti e come ci siete arrivati, anche perché uno dice è uno spazio dove si fanno delle cose. Esatto. Va bene, qualcuno dirà da casa, però... Come nasce? Allora, Gvart Studio fa un anno a luglio, per dire. Siamo quasi in tempo per gli auguri. Esatto. Noi non ci conoscevamo, ci siamo casualmente conosciuti nel periodo giusto, cioè un anno fa, e caso... Io pensavo fosse conoscenti, amici da tempo, invece è casuale la cosa. Sara conosceva Giuseppe da moltissimi anni, io non conoscevo nessuno di loro, fondamentalmente ci siamo conosciuti per caso. Io stavo mangiando una pizza, ho conosciuto Sara, abbiamo capito di avere interessi in comune, tutti bene o male rientravamo, io da... avevo vissuto a Vienna, lei rientrava da Bologna, Marta anche, e tutti ci siamo detti, ma a Sicile cosa possiamo fare? Se abbiamo queste passioni, ma perché non troviamo un modo per farle coesistere, fruttare, creare qualcosa? E Sara ha detto, ma sai che c'è questo ufficio sfitto che utilizzava mio padre, è totalmente vuoto, ma perché non ci facciamo qualcosa? Ok, è una corte che non è frequentata, ma magari portiamo noi, non so, tu porti i tuoi strumenti musicali, io ci porto i miei libri, via dicendo... Dammi l'indirizzo, così lo cerchiamo in tempo reale sul PC... Via Garibaldi 38A, Sacile... Così dopo lo faremo vedere anche assieme al contributo della regia, e quindi mi siete messi... E fondamentalmente ci siamo messi al lavoro, abbiamo cominciato a parlare di fronte a delle normalissime birre di cosa si poteva fare, e da lì è un po' nata l'idea, io ho detto ma se facciamo dei concerti acustici, perché a Sacile per tanti anni c'è stato un comitato del silenzio che purtroppo penalizzava un po' le attività che superavano un tot di decibel, ho detto, cavolo, parliamo un po' con i vicini, cerchiamo di capire se si può fare qualcosa in acustico, in giorni concordati, via dicendo... Questa cosa dei comitati del silenzio, della richiesta, è sempre difficile, no? Riuscire a contemplare le esigenze dei residenti, di chi vuole fare un po' di festa... Ovviamente se fosse totalmente in centro per eventi molto grandi, sì, ma infatti la nostra volontà era creare qualcosa di piccolo, ma creare qualcosa che portasse poi in particolare la cittadinanza e soprattutto i giovani ad usufruire di uno spazio che potesse dare loro qualcosa. E ad oggi, a un anno dalla nascita, devo dire che siamo tutti molto soddisfatti. Ogni mese, bene o male, abbiamo organizzato un concerto, è stato avviato mesi fa un cineforum in cui vengono trattate delle tematiche in relazione al periodo, in relazione a delle nostre scelte, e ovviamente adesso verranno... Eccoci qua, ci siamo sulla pagina, vediamo se la regia ci fa vedere, così siano giusti, Loris, è corretto, no? Sì, qui diciamo che è Google Maps. Ok, ci affidiamo un po' a Google Maps. Ma all'interno di quell'antro... La mappa è quella, beh, bel posto, insomma, vicino all'ivenza, un po' suggestivo, romantico, no? Sì, assolutamente, è vicino anche a una chiesa che dà proprio sulle sponde dell'ivenza, dà dei bellissimi scorci e diciamo che al momento sta andando bene, quindi siamo molto contenti della cosa. Cosa si fa allo spazio? Quindi a voi organizzate ciclicamente delle cose, raccontaci un po'. Sì, allora, diciamo che intanto lo spazio può essere sempre visitato, fondamentalmente basta scriverci, tra l'altro, appunto, abbiamo una pagina Facebook che... Certo, certo, adesso la recuperiamo anche quella. Esatto, e appunto quindi lo spazio è visionabile, abbiamo... Cioè, se ci sono proposte addirittura ne accettiamo, se per esempio c'è... Cioè, se qualcuno da Sacile dintorni ci sta guardando e dice io vorrei fare qualcosa per promuovere una mia attività, no? Qualcosa di legato comunque al diversivo, all'arte, no? Sì, non solo, per dire, a giugno avremo una rivista, tra l'altro, Mataran, di Udine, che verrà la propria presentazione. Quindi noi, tantissimi gruppi, anche a livello musicale, che abbiamo chiamato, venivano dall'Emilia-Romagna, con anche artisti della zona, ad aprire i concerti. Quindi, cos'è Schwartz Studio? È un posto dove chiunque può venire ad offrire anche delle proprie idee, delle proprie proposte, dove può leggersi tranquillamente un libro come bere una tazza di tè, che offriamo noi, ma anche appunto delle attività ricreative che noi offriamo. Solitamente, come ho detto, mensilmente facciamo dei concerti che vengono preannunciati, solitamente tramite campagne di crowdfunding. Ok. Proprio per pagare... Non si paga un ingresso, dipende un po'. L'ingresso... Diciamo un po' a chi è a casa, anche che cos'è il crowdfunding, perché dopo non è nelle corde di tutti. Intanto se la regia ci fa vedere la pagina Facebook, con l'annuncio della ospitata stasera, quindi bravi perché non tutti capiscono questo messaggio, che va un po' promossa la cosa. Assolutamente, assolutamente. Svartz Studio che scrive, ci siamo stasera su Udini TV. Grazie, sì. Mi sono perso, stavo dicendo... No, il crowdfunding. Il crowdfunding, esatto. Fondamentalmente il crowdfunding è... Io, o comunque noi soprattutto, facciamo una proposta di un artista. Diciamo, ok, questo artista ci piace. Secondo noi può piacere anche... Sei tu che selezioni un po'... Per quanto riguarda la musica, sì. Ovviamente, poi però se c'è anche Marta, Giuseppe e Sarra che dicono, guarda, secondo me questi artisti sono bravi. Sono accetti positivamente i... Assolutamente. ...i suggerimenti. Esattamente. Noi contattiamo gli artisti, capiamo un po' il loro cachet, essendo uno spazio piccolo il nostro. Sì, sì. In relazione a quello, in relazione poi alla cena che offriamo alla gente, perché comunque noi diamo da mangiare, da bere alle persone che vengono... Quindi c'è convivialità. Assolutamente, è la base di tutto. Cioè noi facciamo questa cosa, non ci guadagniamo un euro, lo facciamo... Il crowdfunding serve a questo. Ci saranno, no, i sospettosi. Cosa ci guadagna? Tomasella, quattro aghenga? Diciamo che non ci guadagniamo niente. Nel senso che il crowdfunding, come dicevo, noi... Per dire, se un gruppo domanda una cifra, cerchiamo di capire quanta gente potrebbe venire e mettiamo un prezzo, può dire 5 euro, in cui c'è compreso magari il disco in regalo, le birre, il cibo e comunque una rete di conoscenze. Non ci manca solo che paghiate una rata del mutuo, insomma, dopo c'è tutto. Sì, diciamo che al momento siamo riusciti sempre a rimanere in budget e a fare delle serate che io orgogliosamente posso dire degne di nota e che hanno permesso di conoscere tantissime persone e di fare una rete comunque nel territorio, soprattutto pordenonese, che prima non riuscivamo a fare o comunque ci sentavamo un po'... Esclusi, dici? Sì, estranei. Magari le nostre proposte sembravano lontane o difficoltose da fare. Sì. Però... O si dice sempre, beh, cosa vuoi una cosa del genere qua? Sì, ci guadagni un fino. Esatto. È difficile, non c'è la richiesta per questo genere di offerte. Le cose che si dicono sempre per liquidare un po', non dico i sogni, però un po' le aspettative di qualcuno che non si riconosce in quello che viene offerto abitualmente, no? Questo succede. Poi ovviamente quando le cose vanno l'interesse si apre. Ovvio, dopo... E lì diventi un po' profeta in patria, no? Perché che bello lo spazio. Sì, sì, dopo diventano tutti esperti di eventi e si dicono che si sapeva che sarebbe andata bene. E le tribute band da Sagra che ti chiedono di suonare, per dire. Quindi dici, ah, forse sta andando bene la cosa. Sì, sì, quindi tocchi quel livello lì. Sì, sì, capita anche quello. Poi cercate di fare tutte cose, non dico esclusive, però originali. Solo musica originale, no cover, no tributi. Vogliamo proprio... Benissimi, ma insomma ce ne sono già abbastanza di possibilità per chi fa quel tipo di offerta musicale. Sì, assolutamente, niente da andare da dire. Però, visto che comunque ci sono tantissime persone che cercano spazi in cui suonare, cerchiamo di... E non ce ne saranno tanti, non ci sono a Udine, immagino che sia la stessa cosa a Sacile. Ma è un po' l'ambiente da quel punto di vista, Loris. Ma anche a Pordenone hanno chiuso posti storici, purtroppo, il PN Box, continuano a chiuderne. Ma la cosa bella è che continuano a riaprirne. E questo significa che l'interesse c'è. E infatti, poi quando gli eventi vengono fatti e vengono sponsorizzati in maniera chiara, poi le persone arrivano. Ecco, da questa parte del tagliamento abbiamo sempre dovuto un po' imparare. Dal Pordenonese a livello di vivacità musicale. Cosa dici? Io no, non voglio fare derby. No, 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 ma non è mia intenzione. Io sono molto orgoglioso del passato musicale e anche del presente musicale di Pordenone che è della provincia, che ci ha sempre regalato, insomma, gruppi degni di nota. Sì, io anche dico, su quella sponda sono nati anche festival importanti come... Che tuttora ci sono. O come il Sunsplash stesso, anche se penso alla tradizione musicale di quella sponda del tagliamento. Sì, poi era usopo, però sì, diciamo che poi ha chiuso, è dovuto andare a Barcellona. Certo, certo, però... Vomenica Sim, se non erro. Sì, sì, è stata comunità valensiana, no? Esatto. Ricordo tanto il Music in Village, ti ricordi che facevano... Cioè, tuttora se non sbaglio. C'è ancora, no? Il MIV si chiama, che è l'acronimo di... Esatto, locali che è vicino a Sacile, forse a Fontana Fredda, dove lo fanno? Cosa? Il MIV? Dovrebbe, se non erro, doveva essere a Cordenons, di vicino. La zona è quella. Poi abbiamo la Fiera della Musica d'Azzano, in estate è un... Se è Stamplugged, ci sono tante cose. Sì, ma io non posso dire nulla sulla offerta musicale di Pordenone, specialmente in estate. Quindi mi considero fortunato a risiedere nella provincia. Senti, a proposito di estate, che cosa si farà? Raccontaci un po' della programmazione anche, non solo musicale, anche delle altre cose che si faranno allo studio durante questa estate. Allora, solitamente noi non abbiamo una programmazione, per dire, trimestrale. Va sempre mensile. Attualmente so che a fine maggio, il 27, verrà uno degli ultimi partigiani esistenti a parlare un po', diciamo... Questo ovviamente si inserisce in una questione più di dialogo. Sì, di dialogo, sì, sì, esatto. Verrà semplicemente a parlare un po' ai giovani. A contare un po' della sua esperienza. La sua vita. A maggio, appunto, verranno gli illustratori grafici di Mataran a presentare. Dovrebbe essere il 16 giugno. Quindi ci sarà Marco Tonus, no? Esattamente, Marco Tonus. Poi i Chiarsons. Sì, i Chiastrons. I Chiastrons, sì. E poi, adesso, non posso ancora fare il nome, ma verranno a suonare anche altre due band tra giugno e luglio, che però siamo in fase di... Non voglio che sia una cosa, che sembri una cosa da festival. È giusto creare l'evento, no? Assolutamente, no? Guarda qua, dopo siamo anche sulla fanpage di Mataran, insomma, che per chi non lo conoscesse è un periodico, non lo so se è mensile, satirico dedicato al nostro territorio. Guardate qua, questa era una vignetta molto divertente dedicata alle ultime elezioni regionali con questo è il territorio del comune di Tramonti di Sotto, che ha contribuito in maniera decisiva ad eleggere il fu sindaco a questo punto, Gian Paolo Bidoli, di Tramonti, come consigliere per il patto per l'autonomia. Quindi è tutto Veneto-Venezia-Giulia, essendoci una maggioranza quasi schiacciante della Lega, insomma in tutta la regione, mentre il patto per l'autonomia resisteva a Tramonti di Sotto, che era molto divertente, hanno regalato altre vignette, questa mi piaceva, esatto, nei comuni rossi, insomma, no? Clauzetto Cimin, San Vito al Volga, no? Dove ha resistito il centro-sinistra. Quindi sono molto simpatici quelli di Mataran Segnateveli, poi è gente, diciamo, esperta, che anche Marco Tonus è vignettista per l'Unità, per tanti altri, diciamo, giornali quotidiani di tiratura nazionale, quindi davvero gente in gamba. E verranno appunto a presentare la rivista che è appena uscita, che ci è stata data e che è consultabile, per chi volesse venire a trovarci a Cile, e a giugno avremo l'onore di averli tra noi. Ottimo, sentire, ma spazi del genere, voi vi siete un po' informati, ci sono realtà analoghe nella regione, magari qualcuno ci sta guardando da casa, adesso dice, a Udine ti direi proprio che no. A Udine c'è un gran casaupa, che grazie a Dio esiste, Sì, esatto, è una cosa un po' diversa, però che continuano a resistere, quindi bravi. Onestamente, non saprei. Anche il MISCAP a Udine, che è un altro circolo che propone. Sì, l'Arci MISCAP, sì, è un altro circolo comunque. Ha uno spazietto, insomma, per spettacoli e cose, però forse a Trieste siamo poco informati, ci sarà qualcosa, ma non è affar nostro almeno. No, infatti io non so molto bene, non conosco Trieste. Onestamente, spazi similari a proprio il nostro, in regione, non per darci un valore aggiunto, però non ne conosco. Ma è giusto fare un po' i fighi, ogni tanto, dire ci siamo solo noi, però mi piacerebbe essere imitati, Loris, cosa ne dici? Allora, diciamo che se ci fossero realtà, o comunque ragazzi, che vogliono creare situazioni analoghe, a tanto di cappello, chapeau, anzi, saremmo ben felici di collaborare con loro, anche perché noi, sì, siamo Schwarz Studio, sì, siamo Sacile, ma se comunque si vuole collaborare con noi, per dire, si vuole organizzare una giornata dell'arte, per dire, con musica, arte, incontri, voi mettete il know-how, insomma ci siete. Ma noi siamo qui, cioè noi ascoltiamo tutto, poi ovviamente facciamo le nostre valutazioni, come chiunque, ma siamo sempre aperti la nostra porta, sia fisicamente, che a livello uditivo e mentale. Ascolta, sti chiedo, ma Schwarz, chi era? Perché questo mi ha incuriosito, adesso che ci penso. Schwarz, era Aaron Schwarz, era un programmatore statunitense, si è, ha finanziato Reddit, che cos'è? Reddit è fondamentalmente un, era, od è, anzi è ancora, un social un po' satirico, antimoralista, dove semplicemente le persone potevano esprimersi, e possono liberamente. Ok, senza filtri, esatto, ed è anche un cofondatore di Creative Commons, che è sempre sulla stessa linea d'onda, infatti Wikipedia, immagino che tanti telespettatori conoscano questo, penso tutti insomma, che la conoscano. Sì, e si basa proprio su questo principio, era fondamentalmente un attivista, che si batteva per la libertà di stampa, per la libertà divulgativa, in particolare delle informazioni, soprattutto su internet, anche in seguito alle censure, e si parla proprio di, si parla proprio di, si parla proprio di, questa è una grande tematica, posso dire quello che voglio? Sì, no? Lui, sì, ovviamente lui non è una... Un'idea molto americana questa, libertà totale sulla rete, no? Noi abbiamo un etaggio un po' europeo, che può andar bene o male, dipende un po' dai punti di vista, ma... Sì, diciamo che lì, nel bene e nel male, hanno avuto con lui, un altro, c'era un altro clima, un altro modo di vedere le cose, infatti, poi lui è stato definito anche un simbolo, per quanto riguarda la, la libertà appunto, di parola anche. Sì, chiaro, questo è proprio un way of life, a stelle strisce, insomma, assolutamente, ed è, diciamo che... Mi ricordo qua l'emendamento, comunque loro si appellano sempre, non lo saprei, quindi, dovrei sapere, metto l'ignoranza, mi è passato di mente, comunque, è una filosofia diversa, insomma, da, 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 a una tradizione distinta, che è la nostra, con altri filtri, insomma, un'influenza, esatto, assolutamente, millenaria anche, che ha condizionato in questo senso, uno può vederla, ci sono aspetti positivi e negativi, insomma, dipende un po' dalle, dalle, dalle prospettive, senza stare a fare tanta filosofia adesso, perché altrimenti dopo a casa, si annoiano. Lori, sì, ti ringrazio per averci parlato, grazie a voi, di questa iniziativa, che mi piace, spero di sapere il programma, mensile, per tempo, così mi inserisci adesso, i mail in liste, vengo un po' a sapere, di che cosa fate, sono curioso di sapere, quale sarà il gruppo, ci puoi dare la data almeno, così a casa, se lo segnano e dicono, vediamo questo gruppo misterioso, perché, no, non ancora, neanche quello, fanno i preziosi loro, in realtà, fanno i preziosi loro, quindi, ma comunque, si può dire che sono un po' conosciuti, o almeno, sì, abbastanza conosciuti, ok, allora, per l'estate, questo può essere, per l'estate, per l'estate, seguite la pagina Schwarz, con questo nome, studio, su Facebook, quella che abbiamo fatto vedere prima, impossibile sbagliarsi, vediamo se la recupero, così dopo la regia, possiamo vedere, sì, sì, vediamo, ultimo appello, per lo Schwarz studio, eccoci qua, quindi, impossibile, impossibile sbagliare, eccoci qua, esattamente, poi cercate Udinese, Udinews, Udinews TV, esatto, e vedrete, e guardatevi la puntata, e guardatevi la puntata, per chi non ha la vista in diretta, insomma, rivedetela, perché non possono sapere, di questo appello, a meno che non guardino, questa puntata che abbiamo fatto assieme, grazie Laura, è stato molto divertente, e alla prossima, alla prossima, con i prossimi appuntamenti, grazie a tutti voi, benissimo, che ci avete seguito, e appuntamento alla prossima, di viceversa, alla prossima settimana, buonasera a tutti. a tutti i prossimi appuntamenti,